Eroni manca ancora di Elbeg e Geno, nel Brescia è squalificato Emanuele Filippini. Sesso minuto il cross di Bacchini, Birov di testa supera in tutti i sensi Zunico, salva sulla linea Adani. ...rispetto al primo tempo ma al decimo minuto arriva al destro dal limite di Birov. ...rispetto al primo tempo ma al decimo minuto arriva al destro dal limite di Birov. ...una sorta di pallonetto che supera Zunico, quinto gol per il tedesco in campionato che esulta per i tifosi Friulana. ...al 91esimo ancora, 4.440 secondi dopo l'occasione di Ubner Birov, al 91esimo ancora, 4.440 secondi dopo l'occasione di Ubner Birov, in posizione sospetta segna il 3-0.